16 maggio 1925. Siamo a Roma, siamo in Parlamento, a Montecitorio, e all'ordine del giorno c'è un disegno di legge in discussione, poi verrà richiesta l'approvazione e verrà trasmesso al Senato. Quel disegno di legge ha un titolo molto, molto, molto lungo ed è regolarizzazione delle attività, delle associazioni, enti, istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle province, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni. Viene chiamato questo progetto di legge in maniera informale, legge, o meglio disegno di legge sulle associazioni. In realtà si tratta del primo tangibile segno dell'avvio della dittatura. Ricordiamo, siamo nel 1925, maggio del 1925, poco tempo prima, a inizio gennaio dello stesso anno, Benito Mussolini, in uno storico discorso, si è attribuito ogni responsabilità riguardante il delitto Matteotti, il rapimento e l'uccisione del deputato che aveva denunciato in aula i brogli e le violenze del partito fascista. La dittatura sta nascendo in quel periodo e, oltre al discorso di Mussolini, quel disegno di legge, la cosiddetta legge sulle associazioni, rappresenta il primo tentativo del nascente regime di soffocare in maniera tangibile la democrazia. Come? Intervenendo sulle associazioni che da sempre sono il fulcro sociale della borghesia, soprattutto su un'associazione in particolare, la massoneria. Perché? Lo si scopre con un discorso, l'unico discorso fermamente contrario a quella legge, che arriva da un deputato che in realtà non difende la massoneria. Anzi, quel deputato fa parte di un partito che ha sempre avversato la massoneria, ma che denuncia un qualcosa di evidente. Mettere al bando la massoneria significa distruggere la democrazia. Quel deputato diventerà molto famoso, si chiama Antonio Gramsci. Gramsci nel suo discorso lo dice chiaro e tondo. La massoneria è il vero partito laico della borghesia. È un partito trasversale, perché abbraccia destra e sinistra. È un partito che vede una ampia partecipazione di varie fette del Paese e che ha sempre partecipato in maniera diretta o indiretta alla politica attiva del Paese, sin dai tempi del risorgimento, per poi proseguire con le fasi verso l'unità d'Italia e anche nelle fasi post-unitarie, con vari disegni di legge e vari effetti normativi che hanno dato un inquadramento alla nazione, al Regno d'Italia, in ottica di un progresso della società. Oddio, la massoneria è anche litigiosa al suo interno. Tant'è vero che qualche decennio prima, proprio agli inizi del secolo, la massoneria italiana ha litigato. Ha litigato in maniera piuttosto evidente, tanto che quello che era il corpus unicum della libera moratoria italiana, cioè il Grande Oriente d'Italia, si è spaccato. Con una scissione promossa da un pastore protestante di nome Saverio Fera, una parte delle logge del Grande Oriente d'Italia si è staccata e ha dato vita a una nuova obbedienza chiamata Gran Loggia d'Italia, detta anche di Piazza del Gesù, perché la sede originale viene messa proprio in quella piazza a Roma, piazza che poi, diversi anni dopo, diventerà la sede della democrazia cristiana. Gli scherzi della storia. Ebbene, la scissione quella volta verteva sul voto in Parlamento, su una legge per l'insegnamento della religione a scuola. Il Grande Oriente era politicamente contrario e se voleva far sentire la forza dei tanti deputati massoni, una forza che era venuta a meno perché più di qualcuno in preda, si dice, a una crisi di coscienza, oppure per convinzione personale, o peggio ancora, per delle pressioni, aveva votato in senso contrario ai desiderata del Gran Maestro e per questo motivo si è raggiunti alla scissione. Ma la massoneria italiana, per quanto anche divisa, litigiosa, a volte anche difficile da comprendere dall'esterno per gli inglesi o i francesi che avevano contribuito non poco a portare la massoneria in Italia, la massoneria italiana era stata, come diceva Gramsci, il vero partito laico della borghesia. E lo sapeva benissimo anche Mussolini. Mussolini che fa risalire il proprio odio antimassonico ancora a quando era socialista, socialista e anti-interventista. Quindi nel 1914, quando scoppia la Grande Guerra, l'Italia inizialmente resta neutrale, non rispettando la triplice alleanza con Austria-Ungheria e Germania, e in cui il partito socialista, di cui Mussolini all'epoca è uno degli oratori di punta, si dice un tizzone acceso nei suoi discorsi, che Mussolini se la prende, spesso e volentieri, anche con la massoneria, al punto da chiedere che il partito espella tutti i massoni al suo interno. Ovviamente non verrà ascoltato. Per quale motivo Mussolini ce l'ha con i massoni? Ci sono tante teorie su tutto ciò. C'è chi dice, forse per una sorta di sindrome di non accettazione. Secondo alcuni ricercatori e qualche storico, Mussolini avrebbe presentato domanda a un'obbedienza italiana per essere, come si dice, iniziato. Ma gli andò male. Venne respinto. O addirittura a un certo punto fu lui a ritirare la domanda, forse perché non convinto, forse per rifarsi una verginità di fronte alla platea socialista, forse perché temeva di doversi piegare a logiche superiori. Chi lo sa? Fatto sta che Mussolini in massoneria non ci è mai entrato, ma non ha mai fatto scemmare il proprio odio nei confronti della massoneria, che anzi si mantiene costante nel corso della trasformazione di Mussolini da socialista non interventista a interventista convinto ed espulso dal partito socialista, ad appartenente ai fasci di combattimento a fascista. Nel corso di questa non esattamente breve trasformazione politica, Mussolini cambia idea su tante questioni, ma non sulla massoneria. Per lui è sempre il nemico. Per quale motivo? Proviamo un attimo a pensare. La massoneria, come dice Gramsci, è una sorta di associazione che abbraccia un po' tutta la borghesia con tutte le sue contraddizioni, amici e nemici assieme, ed è un elemento non di contrasto, ma di aggregazione. Per chi aspira a comandare in maniera univoca, la massoneria è il nemico. E lo si vedrà negli anni successivi nel resto d'Europa, perché anche nell'Unione Sovietica, prima di Lenin e poi di Stalin, i massoni vengono perseguitati, le logge chiuse e devastate, e i massoni costretti all'esilio può nascondersi. Anche nella Spagna di Franco i massoni sono perseguitati. Un celebre massone come il poeta García Lorca viene messo al muro, in quanto socialista, gay e massone. Praticamente incarnava tre dei nemici principali del franchismo. Anche nella Germania nazista, nella Germania di Hitler, i massoni vengono perseguitati. Vengono perseguitati al punto che vengono chiuse le logge, devastati i locali, arrestati i massoni, qui viene apposto sulla divisa di prigioniero il triangolo rosso, il triangolo che simboleggia i nemici politici dello Stato. Massoni, per riconoscersi, non possono più utilizzare i loro simboli. Quindi ricorrono al mio Zotis, il non ti scordare di me, quel fiore delicato, a cinque petali, un azzurro quasi cinerino. Sarà il loro simbolo da allora. E ancora oggi i massoni tedeschi si riconoscono perché i loro grembiuli recano proprio quel colore, quell'azzurro del mio Zotis. In Italia i massoni italiani partecipano alla Grande Guerra. Addirittura due figure molto importanti della massoneria italiana, come Alberto Beneduce, il futuro padre del Liri, di cui abbiamo già parlato in un apposito video, ma anche l'ex gran maestro Ernesto Nathan, si ritrovano al fronte. Ma i massoni sono per Mussolini un problema, anzi forse il problema, soprattutto nella conquista del potere. E suona quasi grottesco il fatto che almeno due dei quadrombiri della marcia su Roma siano massoni a loro volta. De Bono, ma soprattutto Italo Balbo, sono massoni. Balbo poi ha alle spalle una storia piuttosto particolare. È un uomo manesco, dei modi spicci, nemico giurato di Giacomo Matteotti. Ha trasformato la zona del Ravennate in un suo feudo personale, una sua riserva di caccia, in cui lui comanda veramente, anche al di sopra dell'autorità dello Stato. Balbo poi sarà anche una figura molto ingombrante per Mussolini. Ma di questo parleremo un'altra volta. E allora come mai Mussolini, pur avendo dei collaboratori massoni, pur avendo diversi iscritti al partito fascista che sono massoni, diversi collaboratori massoni, addirittura, nonostante il gran maestro della gran loggia d'Italia, Raul Palermi, gli offra un alto grado, in segno di amicizia o addirittura di rispetto, come mai Mussolini continua a essere ferocemente antimassone? Proprio per i motivi che dicevamo prima. La massoneria propugna una filosofia di base che è quella la Chiesa Cattolica direbbe relativistica, oppure, se vogliamo vederla in altro modo, una filosofia di fratellanza, di uguaglianza, cioè di mettere tutti sullo stesso piano e discutere assieme in maniera pacifica. Non si accetta, dunque, un pensiero unico, che sia di natura religiosa, come il dogma cattolico, ma anche di natura politica, come è quello proprio di una dittatura in cui vige il pensiero unico, quello del padrone. Ecco perché Mussolini è nemico della massoneria. Ed ecco perché nei due anni precedenti quella discussione alla Camera, Mussolini incita con delle direttive emanate alle federazioni, esattamente la circolare numero 4, di continuare ad avversare la massoneria in ogni sua manifestazione. Quella circolare dice la massoneria costituisce in Italia l'unica organizzazione concreta di quella mentalità democratica che è nefasta al nostro partito, cioè al partito fascista, e irriducibilmente ostile. Ed essa, la massoneria, essa soltanto permette ai vari partiti borghesi e socialisti la consistenza e l'unità di azione. È quasi una conferma di quelle che sono le parole di Gramsci. Questo è il motivo dell'odio di Mussolini nei confronti della massoneria. Perché la massoneria, secondo Mussolini, può unire tutte le altre forze politiche, i socialisti, i radicali, i repubblicani, i monarchici, in un unico fronte compatto contro il governo Mussolini. È il suo incubo, quello di ritrovarsi contro una sorta di federazione di politici, ma non solo, anche di persone comuni, che decidono di avversare il nascente regime. Per questo motivo Mussolini ha deciso di combattere la massoneria. Per questo motivo, nei due anni precedenti, alle squadracce è stato dato l'anno libera per dare l'assalto ai templi. D'altronde ci vuole poco ai militini in camicia nera per scovare gli indirizzi delle case in cui sono presenti i templi massonici o degli indirizzi dei vari maestri venerabili delle varie loggie. E i fascisti in questo periodo danno la caccia, letteralmente, ai massoni. A Firenze, un giovane di nome Becciolini, si immola letteralmente per permettere al proprio maestro venerabile di scappare dopo che le squadracce avevano fatto irruzione nella sua casa alla ricerca della lista di tutti i massoni fiorentini. Becciolini viene malmenato, infine ucciso a revolverate. Non è l'unico morto in quel periodo, ce ne sono altri come lui, che vengono uccisi dalle squadracce che obbediscono agli ordini di Mussolini. La massoneria deve sparire. E non basta nemmeno l'appello di Gramsci alla Camera per cambiare, per sensibilizzare l'opinione pubblica. Un'opinione pubblica che ormai è sempre più schiacciata su tematiche antimassoniche. E se i massoni che sono presenti nel Partito Nazionale Fascista, da Balbo in giù, abbiurano o fanno finta di niente e quindi preservano il proprio posto. Negli altri partiti i massoni presenti forse hanno anche un motivo in più per lottare contro il fascismo. Filippo Turati, Giovanni Amendola, i fratelli Norosselli, Emilio Lusso, Randolfo Pacciardi sono tantissimi i massoni che decidono di opporsi al fascismo e lo fanno via via in maniera diversa. Chi, venendo bastonato poi dalle squadracce come Amendola, chi scappando all'estero per provare a riorganizzare un'opera di avversione al fascismo per poi essere raggiunti e uccisi dai sicari come Turati e Rosselli, chi andando a combattere anche in Spagna nelle fila antifasciste, nel battaglione Garibaldi. Sono tantissimi. Dopo che la legge viene approvata e che passa sia alla Camera che al Senato, la Camera tra l'altro passa per 289 voti favoribili contro solo quattro contrari. Le obbedienze italiane si adeguano. Sia il Grande Oriente d'Italia che la Gran Loggia d'Italia sospendono le attività. Prima di essere arrestato e portato al confino dove verrà malmenato al punto da diventare cieco, il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Domizio Torrigiani scioglie ufficialmente le logge ma mantiene in attività, diremmo, dormiente il Grande Oriente d'Italia. Non tutte le logge obbediscono. C'è qualcuno che sfida nottetempo le spie della polizia politica, dell'Ovra per ritrovarsi e ricostituire le logge. Sono tanti gli esempi di anonimi cittadini che mantengono accesa una fiammella che poi troverà ospitalità all'interno della Resistenza, che darà ulteriore vigore alla Resistenza quando il fascismo verrà abbattuto, quando dopo l'8 settembre del 1943 ci sarà da affrontare il nemico in casa, l'invasore nazista fiancheggiato dai rimasugli del regime. C'è chi vede nella morte violenta di Mussolini a Dongo e soprattutto nell'esposizione di Piazzale Loreto a Milano ai piloni di quel distributore di benzina che qui hanno stati appesi in precedenza dei poveri partigiani. Ecco, quella macabre machine scena viene vista da qualcuno come una sorta di vendetta della massoneria. Ma quanto è realtà e quanto è suggestione? In realtà diremmo anche di no perché d'altronde tra chi ha fucilato Mussolini non c'era nemmeno un massone quindi onestamente è difficile dire che possa essere stata una vendetta della massoneria almeno in maniera diretta per quello che riguarda invece la simbologia della messa in scena abbastanza macabra possiamo dirlo del piccagione postuma a Piazzale Loreto a testa in giù. C'è chi ci ha visto una delle figure dei tarocchi lo sciocco detto anche l'appeso ma anche qui è abbastanza difficile attribuire ai partigiani che decisero quella messa in scena una sorta di vendetta massonica ex posta. Primo perché in realtà nessuno dei partigiani coinvolti generazione erano massoni il secondo è che sostanzialmente era solo una vendetta per quello che era avvenuto in precedenza proprio a dei partigiani si voleva simboleggiare con quella falsa impiccagione o meglio fare anche una sorta di rivincita tramite la falsa impiccagione nei confronti della brutalità dei militi della RSI dei repubblichini che erano soliti impiccare ai lampioni i renitenti alla leva i giovani le stappette partigiane chiunque venisse trovato in qualsiasi modo a favorire la lotta contro l'occupante nazista e il suo fiancheggiatore oggi ci sono alcuni teorici della coispirazione che pensano che in fondo i dittatori se si sono opposti alla massoneria dittatori tutti colori dall'estrema sinistra all'estrema destra forse avevano una ragione valida o forse addirittura avevano ragione loro ad opporsi la seconda affermazione è abbastanza dubbia certo a meno che non si voglia propugnare la tesi secondo cui la libertà di pensiero nasce nel periodo dei lumi e viene propugnata dalla stessa massoneria da allora fino ad oggi possa essere qualcosa di nefasto per l'umanità sul fatto che tutti quanti i dittatori si siano opposti alla massoneria un motivo c'è e lo abbiamo detto la massoneria consente di ospitare al proprio interno persone che la pensano in modo diverso a volte che praticano religiosini diverse che arrivano da esperienze di vita estremamente differenti tra di loro e che alla fine trovano una sorta di quadratura del cerchio un punto di equilibrio tra di loro questo cioè la capacità di aggregazione senza prevaricazione rappresenta il pericolo maggiore per un regime totalitario sia di estrema destra o di sinistra non importa è il fatto che un punto d'equilibrio impedisce l'affermazione di una sola voce e questo per un dittatore è quanto di peggio possa avvenire ed è questo che temeva Mussolini per questo motivo incurante anche degli appelli rivolti da patizzanti fascisti massoni oppure da fascisti che avevano il grembiule a casa il dittatore decise di andare per la sua strada una strada che porterà l'Italia a essere una dittatura vieca torva in cui vengono negate le libertà fondamentali a cominciare da quella di pensiero e di parola libertà che vengono difese e portate avanti da secoli non solo dalla massoneria ma da tutta la società civile libertà che però cozzano con il concetto stesso di dittatura di dittorio 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 di dittorio